Credo che mi premeva fare due discorsi. Il primo è quello che abbiamo avuto tanta sfortuna in questo giorno d'andata e oggi siamo stati ripagati da una grandissima fortuna al di fuori dal nostro campo. Perché sul campo abbiamo fatto una partita molto solida, costruita in settimana, giorno dopo giorno, con grande dedizione e con grande ferocia. E poi io credo che alla fine le grandi squadre si costruiscono con della programmazione, con della solidità, giorno dopo giorno, mettendo passo dopo passo, lavoro dopo lavoro. E in questo lavoro ci sono anche degli incidenti di percorsi. Non eravamo dei deficienti quando abbiamo perso con Caserta, anche se non mi ha fatto dormire per diverse notti. Non siamo dei campioni oggi che abbiamo vinto così. Ci vuole equilibrio. La palacanestro, come altri sport, ma forse la palacanestro, che è lo sport che noi amiamo, è lo sport con più trasporto emotivo possibile. Ecco, quindi, trasporto emotivo ce l'hanno i tifosi, ce l'hanno gli ultimi secondi quando una palla entra o esce. Però il lavoro fatto quotidianamente, di gente seria come seria questa squadra, di giocatori fatti e messi lì giorno dopo giorno con tanto lavoro, siamo riusciti a superare anche delle avversità. Ripeto, abbiamo avuto tanta sfiga con un tiro sbagliato a Cantù, con un tiro sbagliato con Sassari. Abbiamo fatto un errore grosso contro Caserta, perché è giusto dirlo. Nel stesso tempo, credo che il lavoro, la dedizione, il non mollare, anche l'intervento societario molto tempestivo e aggressivo, di portare due giocatori in sostituzione di due infortunati, la programmazione alla fine paga sempre. Poi, il basket non è matematica, però più ci si avvicina e meglio si sta senza farsi prendere troppo le emozioni. Sulla partita, credo che sia stata una partita molto bella, tatticamente interessantissima, come avevo detto nella conferenza di Veneto.